Vicinanza fisica, una mezz'oretta di viaggio, vicinanza nella fatica. Il comune di Carmignano di Brenti ha idealmente adottato tutti i sette comuni dell'Unione Montana, spettabile reggenza, colpiti duramente dall'uragano di fine ottobre. In una notte è perso l'egname per sette anni di lavoro, racconta il presidente dell'Unione e il sindaco di Gallio, Emanuele Munari. Gli amici si aiutano quando c'è una difficoltà. Ed ecco allora che Carmignano lancia un patto durante le 41 iniziative del dicembre culturale, proponendo l'acquisto di biglietti di una lotteria in premio Un Viaggio, il cui ricavato andrà tutto all'altopiano. La cultura che genera solidarietà è un po' il motto che accompagnerà questi eventi natalizi e porterà maggiore solidarietà a tutti i cittadini dell'altopiano, ma soprattutto a quella devastazione che abbiamo visto tutti circa un mese fa. Con grande favore ma soprattutto con grande emozione, perché vedere la vicinanza di colleghi sindaci, come in questo caso Alessandro Bolis, sindaco di Carmignano e tutta la sua giunta, fa veramente emozionare, fa venire la pelle d'oca, perché vuol dire che gli amici ci sono, i sindaci amici ci sono e la solidarietà fra di noi è molto importante. Questo insalderà veramente il nostro rapporto, il rapporto fra i comuni, fra la pianura e la montagna, che entrambi hanno necessità l'un dell'altro. Anche il comune di Carmignano parteciperà con una donazione. Non solo faremo questa azione appunto nel promuovere la cultura e fare solidarietà, ma anche il comune di Carmignano di Brenta con un proprio atto deliberativo di giunta darà un contributo all'alto piano nel conto corrente della comunità montana, dell'aspettabile regenza della comunità montana.